Allora, riprendiamo. Riprenderei, allora, che cos'è un curatore? Come si fa a diventare un curatore? È una domanda abbastanza comune. Ci sono un sacco di corsi, di master, se volete io avevo, vedete, con grande sofferenza poi strappo le riviste, i libri, perché magari non ho la fotocopiatrice e poi mi servono per l'archivio. Ad esempio, qua c'è questo articolo, ve lo leggo per intero perché, allora, corsi e master specificatamente diretti alla formazione del curatore non sono molti e tra questi i più conosciuti sono il master di primo livello in curatore di arte contemporanea, metodologie e pratiche dell'organizzazione completa dell'evento artistico dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, nato nel 2007. Ovviamente qua si sta parlando di corsi e master italiani. Il corso di alta formazione per curatore di mostri dell'Università Yulm di Milano, il master per curatore museale e di eventi dell'Istituto Europeo di Design, lo IED di Roma, dal 2007. Altri corsi di laurea, come la laurea specialistica in progettazione e gestione degli eventi e dei percorsi culturali dell'Università degli Studi di Ferrara, o master di primo e secondo livello, poi sono belle queste definizioni logorroiche, potrebbero solo chiamarsi master di curatore primo e secondo loro livello. Dicevo, c'è quello dell'Università di Udine, in ideazione e allestimento e conservazione delle arti visive contemporanea, o dell'Università Cattolica di Milano, in eventi d'arte e in ideazione e progettazione di eventi culturali. Sono diretti più genericamente alla formazione di figure professionali che si inseriscono nella progettazione di eventi culturali. Le iniziative più in linea con gli standard internazionali si lasciano ai privati. Corsi per curatori vengono proposti infatti da fondazioni entri privati, cioè ad esempio il corso europeo per curatori di arti contemporanea della Fondazione Ratti di Como, che è curato da Pinto e da Gabi Scardi, o il corso per curatori di mostro di centro di arti visive della Pescheria di Pesaro, che è curato da Ludovico Prattisi. Da segnalare poi anche il master in management per curatori nei musei d'arte e architettura contemporanea, organizzato dall'Università della Sapienza di Roma, Facoltà di Architettura a Valle Giulio, in collaborazione con il Macro di Roma. Quindi, se qualcuno volesse fare il curatore, si può iscrivere a questi corsi e master, che sono utili. Però, secondo me, la cosa migliore per capire che cos'è un curatore, come diventarlo, è vivolo sul campo, è inevitabile. 15 anni fa, quando io ho iniziato a fare questo lavoro, ormai era un po' in voga questa cosa di definirsi critico e curatore d'arte. Si era un po' capito che cos'era, ma non si era ancora definito benissimo. Adesso, negli ultimi anni, continuano ad uscire la storia della curatela, tanti libri di Obrist, che più che altro sono interviste ai curatori leggendari, che però, in realtà, non è che dicono così tanto. Una vera storia della curatela non è ancora stata scritta. Però ci sono dei libri che si possono tranquillamente leggere e fare il punto. Però, se ti spiegano una cosa, tu la puoi apprendere, ma è nella verifica sul campo che tu capisci se sei portato oppure no. Questo era un inciso per portarvi adesso a vedere una serie di immagini. Questo è il padiglione italiano. Padiglione Italia è la denominazione che si sono dati dei designer durante il Salone del Mobile. Anche loro, un po' come Gianluca di Calevis, nelle Doromiti, durante il Salone del Mobile vanno alla ricerca di uno spazio espositivo che si autofinanziano dove esporre i loro prototipi. Per la prima volta, l'anno scorso, hanno chiamato un curatore, perché esiste già da 4-5 anni, se non ricordo male, questa associazione, che poi cambia. C'è un zoccolo di designer storici, fondatori, sostanzialmente, poi qui si aggregano di anno in anno altri, ne escono, eccetera. L'anno scorso decisero di chiamare un curatore, ma non un curatore di mostri di design, che poi sono degli ambiti che si avvicinano molto, ma alla fine si allontanano altrettanto. Decisero di chiamare me, perché comunque alcuni designer li conoscevo molto bene, ci eravamo trovati, siamo diventati amici, continuiamo a lavorare, e quindi vollero sperimentare questa cosa. La prima cosa che decisi era di dare un tema a questo progetto barra mostra, e lì pensai da curatore di arti visive, per metterle in difficoltà. Trovai questo tema che era la disfunzione mediterranea, perché l'associazione si chiamava Padiglione Italia, quindi comunque voleva ribadire l'importanza del Made in Italy, soprattutto per il design. Noi all'estero siamo conosciuti per il nostro design, piuttosto che per le arti visive. Quindi siamo conosciuti per una meticolosità nella realizzazione del manufatto, ma anche nella concezione dell'oggetto stesso. E poi l'idea, quindi mediterraneo associato a Italia, la disfunzione che è praticamente il contrario di design, cioè l'idea, il disegno del progetto, quindi tu pensi, progetti una cosa perché sia funzionale il più possibile. Viviamo in un mondo pieno di oggetti, molti inutili, molti superflui, che hanno vita breve. Molto spesso il designer concepisce un oggetto che deve durare due anni, non deve durare in eterno, come facevano una volta. Dura la moda per cui è stato creato. Allora io ho chiesto a questi designer, fate degli oggetti in cui l'imperfezione sia ciò che li valorizza. In un mondo in cui ci sono talmente tanti oggetti che si assomigliano fra di loro, quindi c'è la miglioria, c'è l'ottimizzazione minima che può creare quella differenza, vediamo se un errore può essere addirittura più interessante, più funzionale della miglioria. Per due mesi tutti in paranoia. Spiegaci bene questa cosa, non riusciamo a capirla, facci degli esempi, perché non erano abituati, insomma. Gli si dà il tema, lo si svolge a proprio modo. Poi dopo un po' qualcuno ha smosso le acque, insomma ha iniziato a realizzare qualche oggetto e un po' tutti, bene o male, sono riusciti ad addentrarsi in questa idea. Adesso non voglio analizzare il singolo prototipo che è stato realizzato. Io vorrei farvi vedere questo ambiente disadorno abbandonato da diversi anni, era un'ex officina probabilmente, anche perché c'erano dei rimasugli e le pareti, vedete, sono rovinate, sono queste bruciature, stuccature, eccetera. Non lo si è voluto imbiancare, non lo si è voluto neutralizzare, era bello così come si presentava. Il problema qual era? Era uno spazio lungo e stretto e gli oggetti erano piccoli, quindi come li si colloca in questo spazio? L'allestimento io l'ho approvato ma in realtà non nasceva da me, ma da un paio di designer del gruppo che decisero di utilizzare questi pannelli che vengono di solito utilizzati nei cantieri, no? Quindi avevano creato tre perimetri, forse nella prossima immagine lo si capisce meglio, no? Vabbè, qui ne vedete una pedana molto bassa, una media e poi ce n'era una molto alta. Quindi tre livelli e il piano in realtà era un licra, quindi tu appoggiavi l'oggetto e questo un po' sprofondava in questo ambiente. Era illuminato da sotto, oltre che da sopra, e quindi creava tre corridoi con la gente che ci girava attorno, come potete vedere qua. Vedete, no? Questo leggero avvallamento. Diciamo che come idea era curiosa, era interessante, però alla fine uniformava un po' tutto, quindi tu non avevi fatto altro che creare un tavolo dove hai arredato, hai disposto questi oggetti. L'impatto comunque era bello, era gradevole, insomma, avere questo stacco tra il cemento e il materiale edilizio. Comunque c'era un dialogo, ecco, tra sito industriale e in costruzione. Questa mostra l'abbiamo inaugurata al fuori salone, ha avuto ottimi riscontri, anche per il tema, insomma, si discostava dagli altri, poi c'era questa identità forte di questo nazionalismo. Noi in Italia di solito siamo esterofi, no? Accettiamo qualsiasi cosa che arriva dall'estero e poi non riusciamo a valorizzare i nostri autori, che è una cosa imbarazzante, che non succede se tu vai in Francia, in Germania, in Spagna, sono tutti nazionalisti, tranne noi. Non lo so, e sì che siamo pieni di artisti, di gente geniale, ok, non voglio far polemica. Questa mostra poi, attraverso il mio contatto, si decise di portarla a Bologna, qualche mese dopo, in una galleria privata che faceva arte. Lo spazio, che lo state vedendo, è il cubo bianco, quindi era più facile allestire a Bologna rispetto che a Milano. Ma proprio perché era facile, io ho deciso che ogni oggetto doveva avere una sua connotazione, cioè non mi andava di uniformarli su uno stesso piano. Vedete, ad esempio, la difformità dei basamenti. Non è che ho preso dieci basamenti bianchi su cui ho messo gli oggetti. No, allora, questo oggetto, che era uno delle campane, che mettevi un tablet, piuttosto che un cellulare, creava la zona morta. Tu lo chiudevi lì, non riceveva più informazioni. Il discorso era che noi viviamo in una società, dovunque sei, c'è sempre una comunicazione fastidiosa, ti raggiungono dovunque. Allora, quella cosa lì, tu metti il cellulare lì, non ti rompe le scatole nessuno. Moriva, sostanzialmente non aveva più input. Le forme erano rotonde di queste campane, allora un basamento rotondo. C'erano dei piatti in ceramica con un tappo, no? L'idea dell'italiano, ci metto un tappo a una cosa per salvarla. Su queste mensoline alla Heimsteinbach, poi messe a due livelli diversi, perché non mi interessava che i ripiani fossero paralleli, mi interessava che il parallelo fosse da questo piatto a questo vaso. Quindi l'altezza era la medesima. Poi c'era uno scalino che scendeva su quest'altro. Quindi creare un'apparente disarmonia che in realtà è un equilibrio. O, questo è tipico nel mio stile, avevo un basamento con la teca in vetro da mettere sopra. Quindi questa parte qui andava qua sopra. In realtà ero lì che guardavo e dicevo ma è talmente bello sto parallelepipedo di vetro ed è diventato un basamento. Ho altri esempi. Vabbè, qua c'era una pedana bianca. Ah, le mensoline Ikea. Quanto bene ha fatto all'arte l'Ikea. Ai giovani artisti se non altro. Perché tu vai all'Ikea, ti compri delle cornice belle, pulite, insomma, ci fa una bella figura. Tu giri le fiere, tu giri le mostre in giro per il mondo. La cornice Ikea la riconosci subito. Ma la apprezzi? Perché almeno non è la stupida cornice bombata, nera, brutta. Insomma, anche ai miei studenti dico, senti, invece di andare nel negozio che hai a fianco di fotografie che hanno queste cose bruttissime, colorate, eccetera, vai all'Ikea spendi la stessa cifra se non meno e hai una cosa un po' più di valore. E così, anche qui, non avevamo mensoline, fai la corsa all'Ikea, le guardi tutte, ne prendi una, la metti in mostra. Qual è il problema? Qui erano altri basamenti, ecco sì, ve lo faccio vedere in infilata. I basamenti erano tre, tutti uguali, con tre oggetti diversi però. Nel primo il basamento aveva uno scavo rotondo, per cui ho inserito questo scolapasta, che sembra quasi un reperto archeologico, dove ci dovrebbero essere i buchi per far colare la pasta, in realtà ci sono le crepe. Quest'altro invece c'era una fessura, una scanalatura piccola e stretta, rettangolare, e ho messo altri reperti, ovvero si erano dei piatti spaccati, in cui è stato applicato un fermaglio, perché diventavano delle spille. Quindi l'idea del reperto archeologico, ma questo sotto bacheca, alla fine lì il vetro ce l'ho messo, per distinguerlo e creare uno stacco dal precedente. In quest'altra invece, che non si nota, c'era sempre una scanalatura rettangolare, e questa è un'anfora, ok? Un'anfora su un blocchetto di supporto in marmo nero. Quest'anfora è in pressofusione, e poi le due parti sono state cucite fra di loro. Quindi è un contenitore che non contiene niente, perché lì non puoi metterci l'acqua. L'oggetto di design che doveva essere funzionale diventa solo d'arredo. Lì mi sono sbizzarrito perché mi dava fastidio che ci fosse questa scanalatura, però non avevo un altro basamento. Allora, qual è stata l'intuizione? Ci metto l'acqua lì. Non l'ha notato quasi nessuno. Anche quando è arrivato il designer, che in questo caso, mentre a Milano erano tutti presenti e tutti dicevano, ah io farei così, io farei così. Quando sei in 30 persone che dicono, io farei così, non ne viene più fuori. In questo caso, sapendo cos'era successo di là, ho detto, gli oggetti esistono, dateli me, ci penso io ad allestire. In un modo completamente diverso. Quando era arrivato il designer, non sarei neanche accorto che io avevo messo l'acqua. Poi gliel'hanno fatto notare e lui mi fa, ma perché hai messo l'acqua? E ho detto, ma se tu hai fatto l'anfora e l'anfora non contiene l'acqua, comunque tu hai un riferimento all'acqua. Ma soprattutto era per risolvere un problema legato a questo basamento. Perché se no rimaneva il buco, come ti giustifico il fatto che c'è quel buco lì? Sono uscite idee, ah lo riempiamo con della carta, lo riempiamo con del polistirolo. Sì, ma questi erano basamenti di color panna. Se io qualsiasi cosa ci mettevo, era di un altro colore e anche se la coloravo non ottenevo lo stesso risultato. Quindi in questo modo invece me la sono cavata abbastanza grigiamente, a quanto pare. C'era anche un'altra anfora che però era bianca, ok? Dello stesso design. Questo è, non è una mensola ovviamente, è un basamento molto basso. Che però non mi serviva in quel momento all'interno della mostra. Io pensavo di mettere un oggetto a testa, infatti di questi anfore era sufficiente una. Il fatto che ce ne sia una bianca, con marmo bianco, sempre con la cucitura che in quel caso era nera, mentre in quello nero era bianca, però poco mi spostava, insomma. Era lo stesso prototipo in due versioni diverse. Però il designer ci teneva da vela per far vedere che comunque le gradazioni... perché poi i designer sono complicati da gestire. Allora lì cosa ho detto? Non posso mettertene un'altra sullo stesso tipo di basamento. Mi sono inventato di appendere la base molto più alta, quasi che sembrava un trofeo sostanzialmente. Poi così bianco, tu bianco su bianco eccetera, tendeva a scomparire. Tu entravi nella sala, vedevi un po' tutto, poi probabilmente quando arrivavi alla fine e tornavi indietro ti accorgevi di quest'anfora. Quindi era un'informazione a posteriori. Vabbè, qua niente di particolare. Questo invece. Avevo dei quaderni, che sono dei quaderni con a righe, chiamiamole così. L'idea è del vecchio quaderno di scuola, dove quando ti insegnano a scrivere, a fare i numeri, tu devi stare all'interno di queste righe. Però ormai non siamo più abituati a scrivere. Cioè, o quantomeno se scriviamo, scriviamo in un foglio di carta bianco. Abbiamo queste calligrafie che molto spesso vanno in diagonale, casino eccetera. Quindi questi designer saranno inventati dei quaderni con righe prospettiche, solo quadrattini. Quindi uno si poteva inventare una grafia nuova all'interno di questi quaderni. Però avevano un grosso problema questi taccuini a Milano, perché li avevamo messi su dei piccoli traspolini degli espositori, inclinati così, per farli leggere meglio. Però erano brutti. Qui a Bologna, anche qui, non è che avessi le idee chiarissime, però ho chiesto al gallerista, senti, posso scendere in magazzino a vedere che cos'hai. Perché cercavamo un piano da dipingere di bianco, con poi dei cavalletti qua, che sarebbero stati da dipingere sempre di bianco. Io scendo nel magazzino, trovo i cavalletti neri che sapevo che c'erano, li prendo, poi vedo questo piano in vetro con il bordo in legno. In realtà è una cornice, una cornice che non ha il fondo. L'ho fatto diventare il piano del tavolo. Quindi è diventata una piccola installazione a mio modo. Però alla fine questi quaderni avevano il loro spazio in un contesto che era loro, perché era quello del piano, del tavolo su cui scrivi. E soprattutto questa parte, scusatemi, questa parte centrale vuota, quindi quando tu li guardavi non vedevi il tavolo, vedevi al limite il pavimento, però il pavimento era di legno e il regno riprendeva comunque il resto della superficie di questa microinstallazione. E a quanto pare i designer l'hanno molto apprezzato, perché effettivamente lì si riusciva a vedere l'oggetto, cosa che in quell'infilata di Milano si impallavano fra di loro, mentre qui c'era un respiro tra l'uno e l'altro. Questo ovviamente non l'ho fatto io purtroppo, però avrei voluto. Questo è il Museo Rodin che è a Parigi di fronte al Pompidou, il progetto è basato sul vero studio dell'atelier di Brancusi, però è riprogettato da scarpa, no scusatemi, da piano. Ed è molto affascinante, perché prelevi lo studio e lo porti in questo spazio. Vedete, no? Così come adesso e così come era allora. Qualcosa è cambiato, però non tantissimo. La cosa che mi ha intrigato molto, e ve lo voglio far vedere, perché oltre alle sculture vere e proprie, i vari passaggi poi sono bellissimi, no? Gli studi dal legno al gesso, alla fusione, eccetera. Con questi basamenti che non sono basamenti, sono pietre, rocce, no? Che lui trovava, poi lui ci giocava. La cosa che mi ha incuriosito erano queste sorte di teleri, lo vedete anche qua, questo azzurro e questo rosso. Sembravano dei quadri monocromi messi lì all'interno dello spazio. Ecco. Solita deformazione professionale, prima guardo un po' le opere e poi improvvisamente mi fermo a guardare questa cosa che non è un quadro, ma che per me è un quadro, e lì ci sto mezz'ora. E lì mi si apre un mondo, perché c'è quella cosa lì? Ed è corretto, ed è bellissimo che ci sia, perché effettivamente vedete il contrasto che crea. Cioè, staglia, fa emergere, fa emergere l'opera. È un colpo d'occhio formidabile. Qui invece, vabbè, era tutta l'attrezzatura che usava. E da qui faccio uno stacco, perché questa suggestione, vera, reale, no? È aver museificato un atelier d'artista, che sono sempre bellissimi. Il lavoro del critico, del curatore, è bello non solo quando realizzi la mostra, ma anche quando vai a trovare l'artista in studio. Il problema è che quando le cose ingranano, hai sempre meno tempo di andarli a trovare, ed è un peccato. Però, ad esempio, l'ho verificato in prima persona, ma anche confrontandomi con dei colleghi, direttori di museo, hanno anche poco tempo per leggere. Leggiamo poco. Nonostante noi saremmo degli onnivori di letteratura, non abbiamo il tempo, perché dobbiamo stare dietro a un sacco di cose, a aspetti tecnici, burocratici, che non sarebbero di nostra competenza in realtà. Però se non li seguiamo noi, non facciamo attenzione, poi ci sono grossi problemi. Quello che è successo al Museion, il critico, scusatemi, il direttore che c'era, ha fatto delle grandissime mostre spendendo e spandendo. A un certo punto qualcuno, non si sa come, ha detto, ragazzi, attenzione, abbiamo un buco economico incredibile e il direttore non se ne era accorto. Non puoi essere così superficiale nella gestione economica. Sai che se c'è un budget, tu non te lo puoi bruciare nel primo anno o comunque nella prima mostra. Tu fai una mostra all'inizio dell'anno che dura 4-5 mesi e poi come risolvi il resto? È un problema grosso. Infatti io sono un po' come la formichina rispetto alla cicala, no? So di cosa posso disporre e da gennaio fino a dicembre riesco a fare 40 progetti espositivi che in realtà non mi potrei permettere. Perché comunque poi anch'io devo telefonare, chiamare o contatti personali, amici o imprenditori che comunque mi sostengano economicamente i trasporti e i cataloghi e la comunicazione. Perché la realtà comunale potrebbe avere sovvenzione da regione e da provincia, ma in questi ultimi anni c'è l'Expo. Quindi tutti sono concentrati sull'Expo. Tutti i soldi vanno nell'Expo e si perdono nell'Expo, come sappiamo ben tutti, perché i padiglioni non sono ancora finiti. Non mi ricordo la prossima tappa dell'Expo, in Kazakistan forse, non mi ricordo più. Pare che abbiano già pronto tutto. E in Italia siamo ancora lì che in dirittura d'arrivo preoccupati. Vabbè. Allora, qui siamo a Parigi, qui la mostra, l'ultima della triennale di Milano, curata da un amico, Beppe Finessi. L'idea è un po' lo stesso del storage, del magazzino. Anche qui vengono messi in evidenza i materiali di costruzione. Costruzione ovviamente effimere, momentane. Ad esempio, qui questa parte che ha ricreato una stanza più che ottogonale. Adesso poteva tranquillamente tirare sul cartongesso fino a qua, tu entravi, no? Vedevi questa forma strana che da fuori non la percepivi. In realtà qui conta molto non solo che cosa metti, ma anche come lo metti. E lui è stato bravissimo, un materiale povero che non costa niente, quindi ci fai tranquillamente gli allestimenti. Sono i materiali che usi anche per le fiere, poi li imbianchi, li nascondi. A volte invece sono più belli da mostrare. E quindi tu entri in questo salone, intravedi questa struttura e ti incuriosisci. Io ero qua, stavo camminando, vedo la struttura, corsa subito a vedere cosa c'è dentro. Mi ha incuriosito. Se invece ci fosse stato il cubo, avrei fatto il mio giro molto regolare, standard, senza nessun problema. Ovviamente le mostre di design, l'ho detto prima e lo ribadisco, funzionano diversamente da quelle legate alle arti visive. C'è da dire anche che le mostre di design investono moltissimo nell'allestimento, nella comunicazione all'interno dell'esposizione. Tutte, oltre alle etichette, tantissimi pannelli di spiegazione, video, proiezioni che ti raccontano la mostra stessa. Cosa che nei musei d'arte è un po' più snobbata. E sarei anche d'accordo in questo senso. È vero sì che noi, operatori culturali, dovremmo educare, fornire all'utente tutte le informazioni di cui necessita. Però io dico sempre, siamo arti visive. Prima guardiamo e poi eventualmente ragioniamo e capiamo. In realtà lo spettatore arriva nei grandi musei, trova la spiegazione in prespaziato attraverso la messa a parete con delle immagini, legge tutto dalla prima all'ultima riga, guarda le foto, le date, dice, ah guarda, qui c'era Manet, Cezanne. Inizia a girare la mostra, se là ci ha messo dieci minuti a leggere tutto, i quadri, trenta secondi. E poi, è bellissimo, soprattutto nei musei tipo Palazzo Ducale a Venezia, piuttosto che Palazzo Reale a Milano, eccetera, i turisti, ma anche i turisti italiani, le prime sale magari ci spendono 10 minuti. Poi il tempo va sempre a calare, perché improvvisamente li vedi affrettarsi proprio verso l'uscita, non ce la fanno più. E io so benissimo che quando entro in quel tipo di musei, io salto le prime sale, vado direttamente alla terza, alla quarta, se sono affollate. Quando vedo che un po' la gente è emigrata, io torno indietro, cerco sempre il momento di vuoto, perché appunto so dove sono i punti morti delle mostre, perché se no non riesci assolutamente a vedere nulla. Qui altri scorci di questa triennale design, vedete anche qua si ricava lo spazio di transizione, però qua si lascia il vuoto tra l'intercapedini per far vedere effettivamente com'è struttura, com'è costruita la struttura. Lo si fa ovviamente per, questa è una cosa molto intelligente, per gli addetti ai lavori. Queste sono finezze non per il pubblico, ma per noi, per tutti noi, per gli artisti, per i designer, perché anche qui sono le opere di design connesse alla nostra storia del Novecento. Quindi ci sono pezzi famosissimi, si va da Munaria, San Memphis, Alchimia, eccetera, eccetera. Per cui bene o male sono quell'icone che gli addetti ai lavori conoscono perfettamente, c'è sempre qualche sorpresa. Però a questi grandi eventi si va per vedere come sono combinate assieme, qual è il tema che le accorpa. Perché qui effettivamente si vede la differenza. Finesi non ha fatto una collettiva, non ha preso delle cose e le ha appoggiate, no, le ha allestite. È importantissimo questa cosa. Creare delle salette all'interno del percorso, dei micro padiglioni, proprio tematici, introdotti appunto dalle spiegazioni, è fantastico. È un po' quello che a modo mio faccio. Cioè tu entri in una mostra per vederne 20 contemporaneamente. Questo invece è l'allestimento sempre fatto attraverso la triennale alla Villa Reale di Monza, perché adesso la Villa Reale a Monza è la sede per l'Expo, dove prendono le decisioni. È stata restaurata dopo anni e anni di lavori questa villa, splendida, veramente se vi capita l'occasione non mancate di andarla a visitare. E nella parte alta, in questa soffitta, chiamiamola, dove in realtà durante le guerre si erano rifugiati un po' tutti gli indigenti, si creavano delle sorte di piccoli mercati all'interno di questi spazi. È stata tutta ripulita, per bene, eccetera. Qui l'allestimento scelto dall'Anne Chiarico è stato di mettere gli oggetti sulle casse che ipoteticamente li dovrebbero contenere. In realtà, ok, questa macchina da scrivere Olivetti è effettivamente sulla sua cassa da imballo, però poi c'è qualche aggiunta, insomma, non è che sia c'è qualche blef, ma giustificabile e apprezzabile. Non è una cosa nuovissima, lo si è fatto per tanti anni, questa cosa di dare un contesto all'opera. L'opera, quando non è in mostra, dove vive? Nei magazzini. Nei magazzini come vive? Dentro le casse. Anch'io mi sono divertito in una mostra a far... ve la devo raccontare bene, se avete un attimo di pazienza. eravamo quattro curatori. Ci dovevamo suddividere gli spazi. Allora, un curatore arrivò per primo, si prese più spazio. Io arrivai per secondo e attesi gli altri tre, perché comunque ho detto ok, quello ormai se l'è preso, va bene, non è un problema. Attendo gli altri tre, però uno è arrivato poco dopo, e l'altro dopo un giorno, ok? Per cui, alla fine, con il curatore che era appena arrivato, io decisi, vabbè dai, tu prenditi le sale iniziali, poi c'è l'altro, e rimaneva un grande salone, che io mi dovevo suddividere con quello che non era ancora arrivato. Non faccio i nomi per correttezza. Però, io ero bloccato, non riuscivo a lavorare perché non arrivava quest'altra persona. Il problema è che il curatore deve essere presente negli allestimenti. Quello non era un curatore, era un critico. Cioè, tu fai arrivare gli artisti, non li segui. Quindi bloccati anche gli artisti. Alla fine, ho un giorno di tempo per pensare come suddividere questo spazio, perché è un cubo, avevo dei pannelli, eccetera. Però c'erano dei problemi, delle colonne, non potevo dividerlo a metà esattamente, né per lungo, né per l'altro verso. Era un casino. A un certo punto, le studio, mi metto lì col blog, faccio un sacco di elaborazioni, l'unica soluzione che mi viene in mente è di sacrificare molto più del mio spazio, concedendolo all'altro, e io di rilegarmi un corridoio, creare un corridoio attraverso delle pannellature. Ed ero mai convinto, perché a quel punto dovevo mettere tutta una serie di pittori, originalmente li avevo concepiti a parete, ho detto, questa cosa non riesco più a farla. Li faccio vedere così come dovrebbero essere normalmente, cioè nei magazzini. Quindi, quadri a terra, o su zoccoletti, quadri girati, imballati, sulle casse, dietro le casse. Quindi avevo ricreato quell'ambiente, quell'ambiente che lo spettatore, il collezionista, non vede. Non sa che c'è quella realtà. Però quella realtà è la più longeva per le opere d'arte. E mi interessava a fare fruire questa cosa. Poi, giorno dopo, è arrivato questo curatore, gli spiego la mia idea, lui dice, no dai Alberto, non sacrificarti, io farei così. E inizia, mi tiene bloccato una mezza mattina a come farebbe lui. Poi gli dico, sì ma ti sei reso conto che così non funziona, è impossibile. Sono già ragionamenti che ho fatto io. E sono convenuto che non potevano essere. Alla fine, dopo avermi fatto perdere un giorno e mezzo, ha detto, sì, forse Alberto hai ragione tu. E allora, alla fine, sono riuscito a fare questa cosa qua. Però, quando era arrivato in mostra, avevo un'altra idea dell'esposizione. L'ho dovuta riadattare e forse nel riadattarlo è diventata più interessante per me e per gli artisti. Alcuni che avevo invitato io erano presenti e quando gli dissi questa cosa, sapete quando brillano gli occhi, no? Come i bambini. Ma dai, sì, dai facciamo. Con il gallerista che non ne voleva sapere nulla. No Alberto, non si può fare questa cosa qua, perché poi non si capisce. Il collezionista mi vede il quadro a terra così, che idea si può fare. Ed erano padre e figlio questi collezionisti. Il figlio capì le mie intenzioni, dopo un po' mi concesse questa opportunità. Quando arrivò il padre, c'erano dei quadri girati contro il muro, no? Si vedeva solo il telaio, iniziò a girarli. Arriva io e gli dissi, ma guarda che sono da tenere così. Ma perché? Allora gli ho spiegato quella cosa del magazzino e tutto. Però non riusciva a capacitarsi di questa cosa ed era buffissimo. E lo stesso era accaduto con uno degli artisti che stando a Palermo non era potuto salire al nord. Gli mandarono le foto della mostra e lui risposa, ah bellissimo tutto, ma come mai nella parte che ci sono io non avete... L'ho raccontata male. Gli hanno mandato le foto in tempo reale quando allestivamo, ok? Non all'inaugurazione. Le vede e dice, ma perché siete così in ritardo con i lavori? E l'assistente di galleria, no guarda che Alberto, l'allestimento è quello. Lui va a rivedere le immagini e dice, ah ma dai, è contento. Alla fine eravamo tutti contenti, insomma. Ogni tanto però poi durante l'inaugurazione tra il pubblico qualcuno era sempre lì che girava i quadri e io che poi li ripristinavo come dovevano essere. Però va bene. Tutto qua, tutto molto corretto, tutto molto giusto, insomma. Non è innovativo, non è geniale, però è apprezzabile. Almeno non è il solito cubo bianco standard. Qui giocano molto. Poi sarà che la Brianza, perché Monza è città capoluogo della Brianza, lì c'è tutta una filiera legata al legno, al mobile, eccetera. Quindi è anche questo un gioco sul territorio, insomma, a far vedere il legno. Io vorrei fare anche il premio Brugola, Brugola di legno, perché ve lo devo dire, Lissone, che poi quando tutte le persone mi chiedono, ah ma tu sei a Lissone, vicino alla Svizzera, vero? No, è a 20 minuti da Milano, è pura Brianza. Sono tutti convinti che sia vicino a Chiasso, piuttosto che ad altre parti. Lissone, che è stata famosissima proprio per il premio di pittura Lissone, infatti noi abbiamo una collezione storica legata a questo premio, è nata prima la collezione d'arte e poi il museo. Un museo del 2000, costruito appositamente, quando in Italia si usava ancora a riqualificare vecchie scuole, quali elementari, stabilimenti, magazzini, eccetera. A Lissone hanno avuto sempre un intuito, sono stati, come dire, longevi. Ecco, gli devo dare atto che sono stati veramente bravi a riuscire a legare le arti con l'industria. Infatti il premio Lissone era sorto non solo per indottrinare, educare questi immobilieri all'arte, ma era, quando si faceva la mostra, c'era anche in contemporanea la mostra del mobile. Quindi l'uno e l'altro dovevano essere da traino. Ma a un certo punto, se in partenza la mostra del mobile era importantissima a livello anche internazionale, e tutti andavano proprio per vedere i nuovi arredi e di conseguenza andava la mostra di arte, a un certo punto, dagli anni 50, le persone arrivavano per la mostra d'arte e poi andavano a vedere la mostra del mobile. E quindi in quel caso l'arte ha fatto bene perché attirava un'utenza che se no non avrebbe ottenuto. Cosa vi volevo dire? Questa cosa sull'Issone... Bene, mi sono perso, allora riprendo da un'altra parte. Dobbiamo fare pausa. Va bene, va bene.